Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi un video un pochino tecnico, parliamo di illuminazione video fotografica, con questo faretto, lo Zhiyun M20C, che è un faretto che mi è stato fornito ed è un oggetto che è appena uscito sul mercato, ed è un qualcosa che secondo me vale veramente fino all'ultimo centesimo. Ma prima di andare a parlare di questo faretto, cerchiamo di capire quanto è importante l'illuminazione in un contesto video o fotografico. Ecco, per esempio, in questo momento sto utilizzando due faretti. Se non avessi questi due faretti cosa succederebbe? Ecco cosa succederebbe. Dietro di me ho una finestra, sono in controluce e io risulterei molto scuro, non si vedrebbero molti dettagli e il video risulterebbe ovviamente poco gradevole. Quindi ricolleghiamo i nostri faretti, torniamo ad una scena con una illuminazione più gradevole e quindi capite l'importanza dell'illuminazione. Ho utilizzato ed utilizzo tuttora diversi tipi di faretti per le mie scene e perché vi dico che questo secondo me è uno dei migliori perché è molto molto innovativo. Parliamo di tutti i vari dettagli di questo faretto che lo differenziano ad altri faretti presenti sul mercato che costano magari un pochino meno ma che non hanno la professionalità e le caratteristiche tecniche di questo faretto. Cominciamo col partire proprio dal faretto nudo. Il faro ha una gabbia, è racchiuso da una gabbia che si può facilmente aprire con questo pulsantino e quindi lo possiamo liberare. Questo è il faretto completamente nudo. Capiamo subito che già a livello costruttivo è molto differente rispetto ad altri faretti economici sul mercato perché è presente una ventolina, una grossa batteria, due ghiere possono essere ruotate e premute, un piccolo display, l'attacco per una presa usb type c e le indicazioni delle caratteristiche tecniche di questo faretto. Quindi abbiamo in questo minuscolo faro 20 watt di potenza che è una potenza che fino a qualche anno fa era inimmaginabile in un faretto di queste dimensioni e un range di colori da 2.500 kelvin a 10.000 kelvin. Questo per quanto riguarda l'illuminazione standard diciamo dal caldo al freddo ma questo è un faretto rgb quindi è completamente regolabile, si possono selezionare tutti i colori che vogliamo, ha all'interno del suo menu una serie di effetti particolari quindi è un prodotto veramente professionale, ci permette di ottenere dei risultati veramente molto creativi. Quindi questo è il corpo del faretto nudo che viene racchiuso all'interno di questa gabbia come vi dicevo prima, lo rimettiamo all'interno della gabbia. Questa gabbia cosa ci permette di fare? La prima cosa ci permette di montare il faretto sul corpo macchina ma anche di collegare altri faretti quindi possiamo creare una combo di fari o collegare anche altri accessori grazie alle tre slitte femmina che ci sono al di sopra della gabbia mentre sotto abbiamo la classica slitta per il flash, slitta maschio chiamiamola così. L'altro aspetto innovativo è il sistema a magneti che è presente in questa gabbia che ci permette quindi l'installazione di un diffusore che ci viene fornito con questo kit è un kit combo che si applica in modo veramente molto semplice ed immediato quindi questo è il faretto con la luce senza alcun tipo di filtro questo è un primo diffusore che ci permette per l'appunto di avere una luce più diffusa quindi più morbida per una scena video con meno riflessi diciamo così poi abbiamo quest'altro accessorio che è una gabbietta in nido d'ape che si applica a sua volta se vogliamo sopra il diffusore o comunque possiamo anche invertire l'ordine delle cose o usarne solo uno piuttosto che un altro tanto grazie ai magneti si possono applicare e rimuovere come vogliamo ma cosa serve questa questa gabbia in nido d'ape questo serve per avere un fascio più concentrato quindi se vogliamo avere una minore dispersione del fascio di luce ma vogliamo concentrarlo sul soggetto questa gabbia in nido d'ape ci permette di avere un fascio molto più diretto e poi questo sicuramente un accessorio che magari vi ricorda i set cinematografici o comunque i set delle trasmissioni anche televisive il faretto con le alette questo a cosa serve serve per aumentare ancora direzionalità del faro cioè la gabbia in nido d'ape già ci permette di avere un faro molto più diretto questo ci permette anche di avere delle regolazioni ancora più precise quindi di eliminare parte dei fasci di luce che arrivano lateralmente quindi potremmo creare per esempio anche un effetto quasi da palcoscenico ecco quando il faro vi illumina da sopra possiamo ottenere un fascio molto più stretto o più largo oppure parzialmente largo parzialmente chiuso come come preferiamo insomma sono tutta una serie di regolazioni che comunque ci permettono di ottenere per l'appunto risultato molto più professionale è molto bello anche a livello costruttivo devo dire anche come si chiude il sistema di aggancio magneti costruttivamente molto molto bello fatto bene qua posteriormente cosa abbiamo abbiamo le due ghiere no che possiamo accendere click e click continuo si accende un display e in questo display abbiamo tutta una serie di regolazioni cerco di fare la più breve possibile perché comunque questo faretto ha veramente tante cose in grado di offrire veramente tantissimi settaggi differenti è un faretto davvero professionale tramite la ghiera è possibile regolare la potenza in percentuale in modo molto molto preciso ed immediato anche questa è una cosa che lo distingue ad altri faretti da pochi euro presenti sul mercato la precisione della regolazione e l'immediatezza e anche la possibilità tramite un click di saltare da un'impostazione più bassa ad una più alta in modo immediato semplicemente con un click con un singolo click del menu principale possiamo arrivare ad ottenere tutti i vari effetti che sono presenti all'interno di questo faretto allora si può per una cosa selezionare la lingua inglese si può collegare in bluetooth allo smartphone perché ha un'applicazione bellissima che adesso vi faccio vedere brevemente personalmente io preferisco utilizzare questo faretto con l'applicazione soprattutto in modalità rgb perché abbiamo un riferimento visivo dei colori quindi abbiamo tutta la regolazione dei colori visibile e noi spostandoci con il dito possiamo scegliere il colore che vogliamo e impostare e salvare anche le impostazioni e avere quindi dei settaggi molto precisi questo è il menu cct che in inglese significa correlated color temperature che praticamente ci permette di scegliere tutta la regolazione del fascio di luce bianca quindi adesso è spento giro la ghiera vedete che aumenta man mano la potenza del faretto vedete quanto quanto è potente qua siamo lo mettiamo al massimo lo punto sulla mia faccia e vedete la potenza del faretto adesso tolgo tutto proprio per farvi vedere anche la differenza utilizzando il diffusore utilizzando la il filtro la gabbia in nido d'ape quindi così luce normale del faretto vedete come viaggia in modo incontrollato se noi applichiamo il diffusore noterete una lieve differenza semplicemente perché questo diffusore smussa un po la luce la rende più morbida se noi applichiamo invece la gabbia in nido d'ape vedete che il fascio è molto più concentrato verso di me andiamo ad applicare le alette le tengo molto chiuse adesso le chiudo il più possibile cerco solo di illuminare il mio viso ecco tipo una regolazione di questo tipo vedete sembra quasi un effetto di una torcia quindi le lette ci permettono proprio di focalizzarci su un determinato soggetto un determinato particolare che non interessa particolarmente questo per quanto riguarda il cct che per quanto mi riguarda è una delle modalità che utilizzo più di frequente range di kelvin da 2005 fino ai 10.000 che praticamente adesso lo mettiamo ai 10.000 vedete questo 10.000 è una luce completamente bianca fredda gelida praticamente non tutti i faretti arrivano a questi 10.000 kelvin quindi questo qua è un'altra peculiarità di questo faretto ora siamo al menu della luce hsi che in inglese significa hue saturation intensity che è praticamente una modalità di diluizione del bianco ha un range dai zero ai 360 gradi e quindi noi possiamo selezionare il nostro colore siamo a 240 gradi 360 gradi 360 120 vedete che noi possiamo trovare la nostra temperatura in modo diciamo più intuitivo rispetto alla modalità rgb che è una regolazione più di fino mettiamola così questo è il livello di saturazione invece vedete che se lo tengo al minimo praticamente la luce è bianca vado a diluirla e man mano la luce prende un colore viola blu ok questa è la modalità hsi anche questa molto utile nelle scene video questa è la modalità rgb completamente regolabile quindi abbiamo le percentuali red green blu e in base alle nostre preferenze regoliamo le percentuali dei vari colori le misceliamo poi abbiamo anche la potenza ovviamente anche questa modalità ci permette di avere delle regolazioni molto creative gli effetti gli effetti sono una sezione riservata a chi vuole ottenere per l'appunto un effetto più cinematografico quindi a chi produce cortometraggi e chi produce anche contenuti magari particolarmente creativi adesso è impostato sulla modalità candle vedete che sta sfarfallando quindi simula l'effetto della candela si può scegliere la velocità con cui questo effetto si alterna quindi può essere più lento più veloce questo vale più o meno per tutti gli effetti vediamone un po tutti bad bulb è praticamente il bulbo di una lampadina difettoso che sfarfalla effetto tv questo credo che sia lo sfarfallio del riflesso della televisione quindi immaginiamoci magari una ripresa che simula il soggetto davanti alla televisione ecco questo più o meno è l'effetto della televisione lightning grande classico serve per simulare il temporale quindi questo lo possiamo utilizzare in una scena magari horror per esempio il classico film horror o anche semplicemente una scena al chiuso in cui vogliamo simulare il temporale strobe effetto stroboscopico explosion effetto esplosione vedete ecco immaginatevi una ripresa più più stretta e la mia faccia che vede potremmo osservare un'esplosione nucleare per esempio no all'effetto sarebbe più o meno questo il riflesso sul nostro viso sarebbe questo welding effetto saldatura e poi ce ne sono molti altri come poliscar disco e così via firework gli effetti sono veramente tanti e quindi ci permette di avere già dei preset molto creativi molto bella anche questa questa parte devo dire degli effetti ecco adesso vedete questa invece la modalità music praticamente il faretto ha un piccolo microfono integrato che rileva i suoni esterni e segue in modo simultaneo il ritmo del suono per l'appunto esterno quindi io parlo il faretto segue il ritmo della mia parlata del dialogo o della musica anche questo è un effetto che può tornare molto utile immaginiamo anche magari un contesto ecco naturalistico in cui vogliamo che i suoni per esempio del bosco si fondano con l'illuminazione se vogliamo creare una scena sincronizzata dei suoni del bosco con l'illuminazione questa è una cosa che potrebbe tornarmi utile che probabilmente sperimenterò e questo più o meno è tutto riguardo a questo faretto vi faccio vedere un pochino anche l'applicazione però come potete notare mi pare abbastanza evidente che questo faretto è un qualcosa di veramente molto bello professionale e devo dire che zion ad occhio dal sito fa un sacco di cose belle già in passato ho avuto modo di utilizzare uno dei loro gimbal è stato uno dei primi gimbal che che ho acquistato e mi ero trovato comunque bene questo comparto di illuminazione per esempio non lo conoscevo minimamente e devo dire che stanno sviluppando dei prodotti fantastici soprattutto per l'utilizzo itinerante quindi per quelli come me che magari hanno bisogno di luci portatili che funzionino a batteria che si possano utilizzare ovunque come vi dicevo prima tra l'altro c'è anche l'ingresso per la presa usb tap c che quindi ci permette di poterlo collegare ad una power bank ad esempio una grossa power bank e utilizzarlo sempre alimentato quindi non ci dobbiamo preoccupare della durata della batteria perché essendo sempre alimentato lui prende corrente direttamente ci viene fornito un cavetto che è in grado di supportare la potenza necessaria per far funzionare direttamente il faretto quindi magari non va bene un cavetto qualsiasi utilizzate il suo di cavetto e così abbiamo un'illuminazione praticamente senza senza limiti ecco la nostra applicazione dalla applicazione possiamo gestire davvero tutte le funzioni del faretto adesso ho acceso regoliamo l'intensità di illuminazione tanto vedete il faretto alle mie spalle la regolazione dei gradi kelvin ma a mio parere quella più interessante è la regolazione rgb che ci permette di avere tutta la gamma di colori disponibili in questa tavolozza e noi spostando il cursore vedete possiamo rapidissimamente selezionare il tipo di colore che noi interessa veramente molto bello per quanto riguarda il prezzo di questo faro siamo intorno alle 140 euro per la versione normale tornare 160 per la versione combo che è questa con tutto il kit di accessori questo si chiama five ray m20 c e vi dico come come vi ho detto all'inizio a mio parere li vale tutti questi 160 euro li vale fino all'ultimo centesimo il faretto di qualità più professionale che ho avuto fino ad oggi non escludo anche di acquistarne ulteriori proprio per creare anche una combo di faretti per ottenere delle scene particolarmente creative e interessanti comunque trovate tutti i link in descrizione vi ringrazio per questo video tutto ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti ciao da luca alla prossima